Bene, ora continuando sulla falsa riga dell'esperienza precedente parleremo della levitazione magnetica. Qui, come potete vedere, c'è un treno. Questo treno si chiama Maglev. Ora vi farò vedere un filmato, però partendo da un esperimento registrato qui in classe insieme ad uno dei nostri studenti, il fenomeno della levitazione magnetica. Quasi sembra un gioco di magia. Guardate questo ragazzo, sta mettendo questo disco, che non è altro che una calamita, al di sopra di un dispositivo elettrico in cui c'è un campo elettromagnetico variabile. Succede che a un certo punto si crea una situazione di equilibrio tra la forza peso che spinge verso il basso e questo campo elettromagnetico che spinge verso l'alto e basicamente questo oggetto levita nell'aria. Se guardate questa piccola diapositiva qui a sinistra, vedete che se anche appoggi un oggetto di non grosse dimensioni al di sopra, quel magnetino riesce a rimanere sospeso. E ora questo ragazzo farà un po' di giochi, cioè mette al di sopra questo piccolo pupazzetto e vedete che l'oggetto rimane ancora sospeso. Prende un foglio per far vedere che ci sono trucchi e vedete che anche in questo caso rimane sospeso, prende un recipiente di vetro e quindi siamo sicuri che non c'è nulla che tenga questo oggetto e possiamo quindi certificare che è un fenomeno di levitazione. Ripeto, è una levitazione magnetica. Ora se ci pensate, quale potrebbe essere un'applicazione nella vita di tutti i giorni? L'applicazione è proprio data dai treni ad alta velocità. Ad esempio qui abbiamo il Magler, un treno in Giappone che va a una velocità altissima. Pensate che arriva a 601 km orari. Va talmente veloce che l'aria condensa. Ora, come fanno questi treni ad andare così veloci? È presto detto. Tramite il fenomeno di levitazione magnetica il treno è sospeso. Quindi non c'è più l'attrito. Quindi se è sospeso basta poco per metterlo nel moto. Sì, ma poi ad un certo punto bisogna frenarlo. E ovviamente a 600 km orari non possiamo utilizzare freni a disco o a tamuro perché dopo due o tre frenate bisogna sostituirli. Quindi come facciamo a farlo frenare? Utilizzando proprio i freni magnetici dell'esperienza precedente. Se pensate quindi a quante applicazioni pratiche ha il fenomeno di produzione elettromagnetica potete pensare quando fu importante il contributo di Michael Farley. Grazie. Grazie.